Allora, una piccola riflessione. Delle crisi si sa abbiamo tutti paura, ne vediamo solo il lato scuro, quello che non possiamo controllare. Ma la crisi ha anche un altro lato, ed è la spinta che porta a trovare soluzioni alternative. Bisogna concentrarsi un po', chiaro, accettare conflitti e tensioni, rinascere ogni giorno e guardare le cose con occhi nuovi e pronti, perché vedere è già di per sé un atto creativo. A questa crisi abbiamo risposto con coraggio e tenacia, con la voglia di continuare a portare tutti insieme bellezza alla nostra città. Al PIM, quindi, un pensiero speciale. Roberto Zugno, Marco Moretto, Rita Papa, Gastone Telfesta, Mara Pavà, Andrea Babato, Cristina Casone, Antonio Marchetta, Paola Bellini, Chiara Casarino, Arianna Pizzolato, Valentina Zorzi, Federico Cassandri, Monica Monserotti, Ilaria Berto, Franco Favero, Diego Lanti, Luigi Tiritico, Lorenzo Cilona, Samuele Sartor e tutto il gruppo giovani, preziosissima risorsa. E' un ringraziamento particolare che quest'anno avrà un compito impegnativo e delicato. Persone coordinate da Massimo Margaroli, Pirna Condotta e Remo Banto, la meravigliosa squadra dei volontari. Ricordiamolo, i volontari sono persone non remunerate, non certo perché non hanno valore, ma perché sono inestimabili. E sono tra i pilastri di questo festival, iniziato sette anni fa, come una sfida, un festival che vive anche grazie a loro. Continuiamo quindi a sognare tutti insieme, perché se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Grazie, un applauso per tutti i nostri amici. Un dico la prima volta.